Tanto tuono che piove si potrebbe riassumere, così l'ultimo consiglio dei ministri non è stato solo quello della proroga per la prima decada di febbraio di mascherine all'aperto e stop alle discoteche, ma anche quello dell'impugnativa del piano casa pugliese, che da 13 anni garantisce incrementi volumetrici per chi abbatta vecchi edifici per costruire nuovi appartamenti. Non un fulmine a ciel sereno, visto che non è la prima volta che si finisce al muro contro muro con l'esecutivo, la voce si era rincorsa sin da inizio anno con la lettera inviata dall'ufficio legislativo del Ministero della Cultura alla Presidenza del Consiglio, 20 pagine e tanti rilievi, tanto sulla legge regionale numero 38 del 30 novembre scorso, quella che ha sancito la proroga fino a fine anno del pacchetto di misure, quanto sull'altra legge che lo compone in materia di recupero dei sottotetti porticati, seminterrati e aree pubbliche non autorizzate. Un allarme che era parso ai più un preavviso della decisione formalizzata nell'escorsiore. La prima volta che ha visto la luce era il 2009, poi è rimasto lì di proroga in proroga, tanto da far pensare almeno stavolta ad un intervento strutturale che ne rendesse stabili le buone pratiche, ma in un contenitore normativo nuovo. Così avrebbe voluto la titolare della delega in giunta, Nagrazia Maraschio, che pure era arrivata a dare parere negativo al rinnovo dell'estensione della validità del piano, poi ottenuta a maggioranza Fabiano Amati, presidente della commissione bilancio e tra i big sponsor della legge, aveva chiamato a raccolta i parlamentari, ora lo strappo si è concretizzato.